La Basilica di San Pietro è immersa nella luce tenue delle candele, benedette da Papa Francesco e strette nelle mani di tanti religiosi, che nella Messa ricordano la ventunesima giornata mondiale della vita consacrata. Cantano la lode a Dio nella festa della presentazione del Signore, come Simeone, che attese Gesù nel Tempio, e subito riconobbe lui la luce, la speranza che lo fece sultare di gioia il Dio che anche oggi abita in mezzo al suo popolo. Il canto di Simeone, afferma il Papa, è il canto dell'uomo credente, che alla fine dei suoi giorni può affermare, è vero, la speranza in Dio non delude mai. Non delude Anna, la donna anziana che trova fecondità nella preghiera, e non deluderà i malati, carcerati, le persone sole, i poveri, gli anziani, i peccatori, che Gesù incontrerà. Siamo eredi dei sogni dei nostri padri, eredi della speranza che non ha delusso le nostre madri e i nostri padri fondatori, i nostri fratelli maggiori. Siamo eredi dei nostri anziani, che hanno avuto il coraggio di sognare, e come loro oggi vogliamo anche noi cantare. Dio non ingana, la speranza in Lui non delude. Dio viene incontro al suo popolo. Sogno e coraggio della profezia per diventare fecondi e non lasciarsi sopraffare, soggiunge il Papa dalla tentazione della sopravvivenza, che rende reazionari, paurosi, chiusi alla creatività, in cerca di scorciatoie per sfuggire alle sfide che oggi bussano alle nostre porte. La tentazione della sopravvivenza ci fa dimenticare la grazia, ci rende professionisti del sacro, ma non padri, madri o fratelli della speranza, che siamo stati chiamati a profetizzare. Questo clima di sopravvivenza inardisce il cuore dei nostri anziani, privandoli della capacità di sognare, e in tal modo sterilizza la profezia che i più giovani sono chiamati ad annunciare e realizzare. La speranza nasce da Gesù, dall'averlo in braccio per Simeone, dall'essere in mezzo al suo popolo. È questo, afferma Papa Francesco, quello che salva dalla sopravvivenza e che rende vivo il cuore. Mettere Gesù là dove deve stare, in mezzo al suo popolo, anche quando la realtà è piena di cambiamenti e il consacrato e la consacrata hanno davanti grandi sfide. Lì si è chiamate ad essere lievito, a porsi senza difese e paure, ma con le mani all'aratro per far crescere il grano seminato nella zizzania. Mettere Gesù in mezzo al suo popolo significa avere un cuore contemplativo, capace di riconoscere come Dio cammina per le strade delle nostre città e voler toccare le piaghe di Gesù nelle piaghe del mondo, che è ferito e brama e supplica di risuscitare. Metterci con Gesù, immesso al suo popolo, non come attivisti della fede, ma come uomini e donne che sono continuamente perdonati. Mescolarci prosegue il Papa a partecipare a questa marea caotica che con il Signore diventa fraternità, una carovana solidale, un santo pellegrinaggio. È l'uscire da se stessi, tante volte evocato da Francesco, per trasformare la propria vita, condividendo quel canto nuovo e forte che nasce dalla speranza.